Ieri sera in Consiglio Comunale purtroppo è passata la variante che stabilisce che a Chiaruccia da adesso in poi si possa costruire la famosa clinica privata. Noi dell'opposizione siamo sempre stati assolutamente contrari a questo progetto e purtroppo ci troviamo con questa scelta che è comunque una scelta che mette in evidenza come il PD fanese sia assolutamente asservito al PD provinciale e regionale e che stia di fatto tirando in qualche modo il gioco di alcuni interessi privati, grandi interessi privati che vedono nella clinica privata un grande affare. Attualmente l'ortopedia di Marche Nord ha perso 50 posti letto negli ultimi 10 anni e questi 50 posti letto miracolosamente ricompaiono nella clinica privata convenzionata. Quindi l'ipotesi che si trattasse di un'operazione, di una strategia non è più un'ipotesi, è un dato sicuro, conclamato, accertato. La Giunta Seri ha assolutamente abbracciato questo progetto. Noi continuiamo a combattere, continuiamo soprattutto a tenere alta l'attenzione, continuiamo a osservare tutte le inefficienze, tutte le debolezze. In questi giorni 600 persone al giorno sono in fila di fronte agli sportelli del CUP perché neanche il CUP funziona. Anziani, persone anche sole che sono costrette a prendere mezzi pubblici per arrivare a Fano anche dalle periferie e dalle città dei comuni vicini per venire a prenotare una cosa che per telefono non si può più prenotare. Le liste d'attesa stanno aumentando nonostante quello che ci viene raccontato. Noi di centrodestra, nel momento in cui governeremo questa città, come prima cosa sicuramente annulleremo la variante che abbiamo purtroppo dovuto vedere votata ieri sera e ci opporremo in tutti i modi, ma soprattutto dobbiamo anche prevedere che tutte le attività che possono essere fatte vengono dalla Regione. Le scelte importanti saranno regionali e quindi dovremo procedere quanto prima a sovvertire questo potere del PD regionale, a sostituirlo con un nuovo governo regionale che tenga nel dovuto conto la salute dei cittadini e soprattutto che difenda la sanità pubblica contro quella privata.